Ci stanno per aumentare i grossi d'energia le bollette a tutti, no? Si è previsto una bolletta fino al 40% in più, se non mi sbaglio, tra gas e 30-40% in più. Avete fatto un consiglio dei ministri oggi su questo. Rimarranno bollette pazzesche, più alte quest'anno o no? Cosa ci aspettiamo? Allora, vi do i numeri, sono scritti, freschi. Un anno fa il gas costava, per produrre un megawattora, che è l'unità di energia grossa, che costava 40 euro. Oggi ne costa 150. Questo è un problema non dell'Italia. E perché? Perché c'è più richiesta? Perché è ripartita l'economia dopo la pandemia? Non solo, perché si sono spostati i flussi. La Cina ha annunciato in questi giorni che fa face out del carbone e trasforma gas, produce il 50% dell'acciaio mondiale. Ci sarà una richiesta di gas enorme. Cioè smette il carbone e prende il gas? Esatto, il gas si sposterà lì. Ovviamente noi avremo un problema di noi e tutta Europa. Però questa è una buona notizia. Cioè che i cinesi producono meno carbone? Questo è uno degli effetti del G20 presiduto dall'Italia. E quindi è un'ottima notizia, anche per noi. Però c'è un movimento globale energetico che dobbiamo controllare. Allora, la Spagna, la Francia, tutti hanno il problema dell'aumento della bolletta. Noi in questo momento abbiamo fatto un provvedimento molto chiaro, che vale per il brevissimo termine, per mitigare la bolletta di questo trimestre. E quindi abbiamo reperito circa 3 miliardi e mezzo, lavorando sui vari capitoli di bilancio. Quanto la mitigate? L'aumento che dovrà essere confermato nei prossimi giorni dall'autority sarà intorno ai 9 miliardi fra parte elettrica e parte gas. Noi riusciremo a compensare circa 3,5 miliardi, però andando a incidere soprattutto sulle fasce più povere. Ci sono delle misure, per esempio, che esenteranno completamente dall'aumento, chi ha lì se è basso, chi ha lì se è sino a 20 mila euro con tre figli. Quindi poi ci saranno... Cioè diciamo fino a 20 mila euro con tre figli non pagheranno l'aumento. E poi progressivamente per i redditi più alti ci sarà la stangata. Ci sarà un incremento che purtroppo è inevitabile al momento, ma... E durerà a lungo questo... Allora, questo è il trimestre da mitigare, come è successo tre mesi fa. Nel frattempo, entro la fine dell'anno, noi lavoreremo a un impianto molto più strutturale per il futuro, perché è chiaro che questi aumenti sono aumenti globali e probabilmente continueranno a pensare sulle bollette. Cioè noi dobbiamo entrare nell'ordine dell'idea che pagheremo di più e quindi dovremo anche in qualche maniera usare con maggiore parsimonia il gas e l'elettricità. Si dovrà innanzitutto ristrutturare la bolletta per come è calcolata. Poi ricordiamoci quanto sono importanti gli interventi di efficientamento energetico, perché qui stiamo parlando... Certo, i superbole, l'eco-bonus, eccetera. Tutte quell'osseri diventano importantissime, perché economizzare è parte del game. Edifici mantengono di più l'energia. E poi bisogna fare una riflessione su cosa fare del gas come mezzo di transizione, perché da un lato si produce anidride carbonica, ma meno del carbone. Dall'altro dobbiamo dare continuità alle rinnovabili, che nel frattempo dobbiamo fare una corsa pazzesca. Senta, ma una cosa proprio...